incontenibile imponderabile irrazionale torna puntualmente a manifestarsi il terrore sempre il medesimo quasi come si trattasse ormai di una tragedia che torna a ripetersi nei suoi moduli sempre uguale a se stessa è stata la volta di nuova york nel 2001 poi si è arrivati a parigi a berlino a madrid londra tutte le principali città dell'occidente capitalistico sono state colpite da quello che si è soliti qualificare con l'etichetta di terrorismo l'europa tutta è sotto attacco si dice già che il terrorismo dall'iniziale partenza statunitense si oggi propagato anche nel vecchio continente non è chiaro da parte di chi si sia sotto attacco tuttavia le risposte sotto questo profilo appaiono largamente stereotipate e si muovono in quella dimensione che con lo egel diremmo di un noto che non è conosciuto l'islam ha dichiarato guerra all'occidente così vorrebbe farci credere la narrazione egemonica lo storytelling dominante il cui fine conclamato è evidentemente quello di delegittimare l'islam ma più in generale ogni religione della trascendenza che ancora non sia stata riassorbita nel monoteismo immanentistico idolatrico dell'economia di mercato come abbiamo più volte sostenuto anche nel nostro studio il futuro è nostro non ci troviamo oggi dopo il 1989 in una guerra di religione come pure sempre si va ripetendo e semmai una guerra alla religione si tratta di una guerra dichiarata dal capitalismo vincente il capitalismo assoluto o anche turbo capitalismo a ogni idea di sacro che non sia quella del mercato deregolamentato in effetti il sacro la trascendenza la religione perimetrano uno spazio indisponibile al mercato e alle pratiche dell'onni mercificazione ciò che è divino ciò che è sacro ciò che è religioso e trascendente è indisponibile alle pratiche alienanti della mercificazione del libero scambio della ragion mercantile ed è per questo che il turbo capitalismo vincente vorrebbe annichilire ogni spazio del sacro della trascendenza e della religione di modo che vi fosse un unico spazio quello materialistico delle merci che scorrono in ogni direzione senza ostacoli senza barriere senza confini di modo cioè che vincesse su tutta la linea quel materialismo che dal settecento ad oggi in fondo non è altro che l'omogeneizzazione spaziale funzionale al mondo della forma merce mondo della forma merce che non conosce né alto né basso né sacro né divino perché corrisponde a un piano liscio senza simboli desacralizzato sdivinizzato sul quale semplicemente circolano in ogni direzione liberamente le merci e le persone mercificate come già si è sostenuto in altra occasione noi non sappiamo i nomi di chi è realmente responsabile dell'efferata barbarie del terrorismo né però ci accontentiamo delle versioni ufficiali prevediamo e non è difficile che in ogni caso l'attentato di oggi come quello di domani diverrà l'occasione per sostenere da più parti il solito si dice di heideggeriana memoria il si dice del ci vuole più europa ci vuole più globalizzazione ci vuole più americanizzazione del mondo cioè civiltà come viene ormai ripetuto da più parti naturalmente per rallentare rendere più ardua l'attuazione di ogni progetto di resistenza rispetto al progetto della global class cosmopolitica che invece per parte sua vuole più globalizzazione più unione europea più mercato meno stato meno sovranità popolare meno democrazia occorre riscontrare ancora una volta che gli attentati si abbattono immancabilmente sulle masse subalterne precarizzate sottopagate super sfruttate i terroristi colpiscono sempre immancabilmente con incredibile precisione quasi chirurgica gli sconfitti della mondializzazione il popolo le masse inermi le classi lavoratrici vi è uno strano paradosso a tal riguardo il terrorismo islamico si dice vorrebbe colpire il cuore dell'occidente metterne in ginocchio i centri nevralgici del potere e poi chissà perché l'ira delirante dei terroristi non si mai sui luoghi reali del potere in occidente intendo dire banche centri della finanza luoghi reali del potere i signori del mondialismo la cinica classe dominante turbo finanziaria non viene mai nemmeno sfiorata resta inevitabilmente intonsa il potere dei globocrati esce sempre chissà perché rinsaldato addirittura dopo gli attentati terroristici perché trova sempre puntualmente nei gesti nefandi e criminali del terrore l'occasione per potenziare il proprio ordine dominante e lo fa nella direzione del ristringimento delle libertà dei bombardamenti umanitari il terrorismo della lotta al terrorismo del dirottamento del conflitto di classe verso il conflitto di civiltà messo a tema da samuel antinton verso la riadesione delle masse ormai sull'orlo della ribellione ai valori dell'occidente mercatistico identificato con il bene insomma se volessimo ragionare serenamente a distanza di sicurezza dal vitrio teatro delle ideologie e dell'opera della manipolazione organizzata dall'ordine vincente dal clero giornalistico e dal circo mediatico verrebbe da pensare che i signori del terrore siano degli sprovveduti vogliono colpire a morte l'occidente si dice e invece ne rinsaldano sempre da capo il potere vogliono abbattere i potenti occidentali e invece finiscono puntualmente per agevolarli giacché massacrano indeboliscono le masse pauperizzate occidentali ossia i veri nemici dei potenti d'occidente insomma diciamolo questi signori del terrorismo che pure vogliono colpire il potere in occidente colpiscono sempre coloro i quali in occidente sono pronti a lottare contro il potere sono le masse dannate del globalismo quelle che sotto il nome di sovranismo e populismo oggi stanno riorganizzandosi per riaprire una lotta verticale del basso contro l'alto degli sconfitti contro i vincitori del servo contro il signore per dirla con hegel e poi diciamo ancora una cosa i signori del terrorismo islamico hanno sempre un tempismo perfetto arrivano in francia proprio quando le masse iniziano a mobilitarsi contro la lua travail fu il caso dell'attentato di inizia del 2016 arrivano in inghilterra quando si avvicina al momento del redderazionem con l'unione europea la questione del brexit così accadde nel marzo 2017 in sostanza i signori del terrore finiscono anche sotto questo profilo per agevolare sempre le classi dominanti d'occidente proprio mentre le masse nazionali popolari super sfruttate sottopagate scendono in piazza protestano contro la loi travail che era una legge che massacrava le classi lavoratrici in francia o appunto quando le masse cominciano a essere più che mai attive per attuare il brexit ecco che divampa il terrore ecco che divampa il terrore che sposta l'attenzione fa sì che l'attenzione si trasli dalle questioni sociali alla questione del terrore con un'ovvia conseguenza a cui già facevo poc'anzi cenno il problema diventa quello della riunificazione intorno ai valori dell'occidente buoni contro quelli negativi di the rest of the world l'occidente buono deve essere compatto unito contro l'aggressione terroristica ecco allora che il conflitto di classe interno all'occidente alto basso sparisce quasi per magia e l'occidente tutto si ricompatte intorno al proprio statuto alla propria essenza buona contro il male di tutto ciò che occidente non è insomma se volessimo ragionare attentamente a distanza di sicurezza dal coro del politicamente corretto che poi anche un eticamente corretto corrotto dovremmo senz'altro dire che il terrorismo quasi sembra costruito ad hoc per tutelare il potere d'occidente quel potere che in realtà si dice vuole contrastare e che invece puntualmente finisce per rinsaldare attaccando chi in occidente realmente vuole battere quel potere le masse dannate del globalismo insomma i signori d'occidente non devono temere più di tanto hanno nei terroristi islamici nei cosiddetti terroristi islamici degli alleati colori quali debbono temere veramente sono gli sconfitti del mondialismo in occidente che ad avere come loro nemici i signori del globalismo hanno anche ugualmente come nemici per puro caso sicuramente anche i signori del terrorismo grazie a tutti